Sicuramente è una bellissima sensazione tornare su questo campo dove tante gioie sono state vissute. Mi ha fatto tantissimo piacere. Ho visto uno strigione che i tifosi mi hanno dedicato, i miei ex tifosi manceratesi diciamo. Mi fa tanto piacere, sono cose che ti mettono voglia davvero di giocare a calcio. Sì, i colori anche che facevano ricordare i tempi andati. Mi auguro niente di grave, farò degli accertamenti e vedremo i prossimi giorni. Sicuramente il Materica sta facendo un ottimo campionato, lo dimostra di giornata in giornata. Oggi su questo campo un po' impraticabile, siamo stati più cinici noi, più cattivi. Abbiamo tirato fuori qualcosa in più di loro e ci siamo portati a casa il risultato. Però comunque, ripeto, davvero un'ottima impressione il Materica. Come dico, praticamente tutte le settimane è ancora lungo, quindi è impossibile fare dei pronostici. Credo che abbiamo degli obiettivi differenti, sia noi che il Materica. Noi puntiamo a continuare così, a vincere le più partite possibili e arrivare il più in alto possibile. Sì, noi naturalmente abbiamo una squadra e degli obiettivi importanti, però naturalmente ci sono anche gli avversari. Come stiamo vedendo, nessuno ci regala i tre punti. Ogni partita è dura, c'è da lottarla, però siamo sulla buona strada. Sì, è importante moralmente, non bisogna mai dimenticarsi di queste piccole cose che non sono poi tanto piccole. Abbiamo fatto questa vittoria, sicuramente è dedicata anche a lui. Speriamo di continuare anche nelle prossime settimane. Sicuramente, quando si riprende dopo le vacanze di Natale non si sa mai la condizione fisica, la condizione mentale. Abbiamo ripreso nel migliore dei modi, è fondamentale mantenersi a questi livelli e continuare pure per tutto il girone di ritorno.